Il settore turistico è un settore trainante per l'economia del territorio. Siamo sicuri che su questa affermazione non troveremo nessuno in disaccordo. Nonostante ciò, purtroppo, secondo la nostra visione, sono ancora pochi gli strumenti messi in campo per meritare a pieno titolo questa definizione. Inizia così il comunicato stampa dell'Associazione Aota di Agropoli. Siamo certi, inoltre, che tutti concorderanno sull'enorme potenziale, non totalmente espresso, della nostra cittadina dal punto di vista storico-culturale, balneare, enogastronomico e commerciale. Tuttavia, questi settori da anni patiscono una situazione di stallo, in alcuni casi, di arretramento economico. L'Associazione Operatori Turistici Agropoli, rappresentanza delle strutture ricettive dei servizi al turismo associati, alle competenze per poter dare il proprio apporto alle politiche di programmazione turistica. Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale, che venga indetta entro dieci giorni, una riunione della cabina di regia sul turismo per avere risposte e, allo stesso tempo, per poter concertare insieme azioni riguardo ai seguenti temi, pulizia e manutenzione delle spiagge, soluzioni previste per lo smaltimento degli accumuli antropici di Posidonia, previsioni di spesa dei proventi derivanti dalla bad tax, politica in favore del commercio attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno diretto alle imprese. L'Associazione Operatori Turistici Agropoli possiede le competenze e l'esperienza necessaria per poter assumere un ruolo chiave di mediazione e di supporto tra le realtà turistico-commerciali e le istituzioni. In virtù di questo chiediamo infine che venga istituita una commissione permanente sul turismo locale. Gli operatori del settore, che intendono associarsi per essere parte di un unico forte soggetto di promozione e di crescita territoriale, possono contattarci ai seguenti recapiti, e-mail info-operatorituristiciagropoli.it oppure telefonare al 333 17 04 827.